L'ultimo episodio di Supermarket Simulator è stato pubblicato martedì 7 maggio 2024 È passato un mese, sì ragazzi, stavo in vacanza, ma adesso riprendiamo tutto Ragazzi, dopo ben un mese di tempo siamo tornati con Supermarket Simulator Allora, mi dispiace per i clienti Siamo qua con Gigi, che non mi ricordo neanche se abbiamo chiamato Gigi Ma per questa puntata ti chiameremo Gigi, sicuramente mi sarò sbagliato Da quando ragazzi, se volete altre puntate di questo gioco Subito un bella descrizione qua sotto, un bel like E fatemelo sapere, mi raccomando, qua sotto con un commento Vedi? Oh, gliel'ho detto, ha cominciato a lavorare, incredibile Di fuori, oh mio Dio, quanta roba Ma guarda, oh mio Dio, quanta gente c'è Allora, intanto che poi finiscono, io direi di fare un ordine per domani Prendere un punto luce sicuro per il magazzino, assolutamente Vogliamo acquistare una licenza prodotto? Ma sì, dai, ma sì, 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 perché no, perché no Finiciamo, mozzarella, parmigiano reggiano, miele tonno, uova confezione da 4 e zucchero a velo, perfetto Questo ragazzi va in frigo, direi allora di metterlo qui Un botto comunque sono ottimo, 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 ottimo Meglio così Iniziano l'abbiamo messo in frigo Qua 7.33, molto bene, molto bene Abbiamo fatto tutto, possiamo aprire Ma neanche quando possiamo prendere il secondo cassiere, fatemi un attimo guardare Salve signore, che bella giacca, che ah, madonna Ragazzi che stiamo fatturando, dajee Mandati in vacanza per un mese, mo qui tutti i giorni, eh Tutti i giorni aperto Sono le 9, ma non ce ne frega niente Noi restiamo aperti tutto il giorno, tutta la notte, per sempre Allora abbiamo 1858, che cosa manca? Un po' d'olio, un po' di latte, burro di arachidi, riso basmati Allora, noi abbiamo 1540 dollari Potremmo prendere la licenza dei freezer Quanto costa un freezer? Costa 400 Eh, non è che costa pochissimo, eh, se posso essere sincero Io direi di comprare Tanto far partire la giornata 800, boom Nel mentre che qui parte la giornata Vediamo dove metterli Bella domanda Allora, uno qua davanti potremmo metterlo Sì, molto, molto meglio E l'altro Vediamo un secondo dove metterlo Vediamo un attimo C'entra qua, c'entra? Guarda qua, che perfezione, guarda Boom Vicino al frigo, vicino alla cassa A parte la cassa possiamo anche spostarla di qua Ottimo, ottimo 124 Eccolo il record Madonna signora, quanta roba Madonna, oddio 110 si gode Vediamo di questo bisogno, facciamo un botto Prendiamo il secondo cassiere Prendiamo due licenze Prendiamo i freezer Allarghiamo Forse allargare il negozio no Però un botto di cose Deve allargare anche il magazzino, ragazzi Assolutamente Allora, direi che possiamo intanto Comprare i nuovi oggetti I nuovi prodotti Vabbè, quello che è Cereali nuovi Pollo Sacchetto di patate Pizza mista E patatine fritte 251 che se ne vanno Ole Ole Allora, questi sono i polli E vanno in freezer Ho come un botto i polli Patate che vanno sugli scaffali E me sa che bisognerà prendere un altro scaffale Quindi per il momento Per il momento le mettiamo qua Per il momento Occupano un botto anche queste Buonissimo Uh, un sacco di pizze Ottimo Direi che abbiamo fatto un buon upgrade Abbiamo fatto due licenze nuove Qua Dite che è troppo stretto No, però ci si passa, eh Brutto messo così Ma non importa Allora, te Intanto ti posso spostare un po' più indietro Assolutamente Questa cassa La posso spostare un po' più qua I prezzi I prezzi La cassa è aperta Perché non venite da me, dai Sono già le 6.39 ragazzi Oh, passa in frettissima le giornate comunque Madonna, quanta ciente Oh mio Dio Vengo a dare una mano Vengo a dare una mano Assolutamente Guarda quanta ciente c'è Oh mio Dio È pieno Ci serve un nuovo cassiere Assolutamente Dopo questa puntata Lo prendiamo Cioè ragazzi Guardate quanta ciente c'è Oh mio Dio È pieno, è pieno Gigi Ti devi sbrigare Gianni Gianni Mi sono ricordo adesso ragazzi Come si chiamava Gianni 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 ti devi muovere Gianni su Abbiamo un botto di persone Un casinato lo so Ma piano piano ci rimetteremo in sesto Quindi ragazzi I clienti non smettono Non smettono di venire Cioè non è Non che mi dispiaccia eh Però ce ne sono moltissimi Su quanto stiamo fatturando qua Quanto stiamo fatturando Eeeh Farò finta di non aver visto Ottimo 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 Inizio il giorno seguente Allora sabone per le mani Sceso Zucchero a velo è sceso E sale è sceso Perfetto Allora ragazzi Direi che possiamo prendere il secondo cassiere O in verità No non possiamo espanderci Sto scherzando Stavo dicendo magari ci possiamo espandere No Però possiamo assumere il secondo cassiere Che dobbiamo pagare 80 al giorno Allora lo assumiamo Boom Intanto paghiamo tutte le fatture che non avevamo pagato Un botto di soldi che se ne vanno A sto punto ragazzi Allarghiamo anche il magazzino Che 800 fanno comodo Boom E compriamo anche Dove si va Magazzino Mercato Arredamento E prendiamo anche altri due di questi Che fanno super comodo Perfetto Allora Gianni è il nuovo compagno Pino Pino Lo chiameremo Pino Perché mi è venuto in mente questo nome Pino e Gianni Ragazzi fate bene Perché sennò vi licencio Assolutamente Intanto ti apro la cassa Poi Ecco i due scaffali Del magazzino che sono arrivati Oh Almeno un po' si è allargato Finalmente aggiungerei Ottimo Questo lo prendiamo Lo mettiamo Qui a fianco a questo Per ora poi In caso lo sistemiamo Perfetto Posso girare così Mettiamoli attaccati Cerchiamo di risparmiare Più spazio possibile Questo giralo Ottimo 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 Stiamo prendendo forma Anche nel magazzino Incredibilmente Ottimo Ottimo Abbiamo sistemato Serve un altro punto luce Come minimo Perché sennò Dopo la notte Non vediamo Assolutamente nulla Prendiamo questo Punto luce Lo mettiamo nel magazzino Qui Perfetto Ragazzi Io direi che possiamo chiudere qua il video Abbiamo fatto un botto di cose Due nuove licenze Il magazzino Che l'abbiamo allargato Abbiamo preso un altro Cassiere Cioè Pino Che aiuterà Gianni Almeno lo spero Perché sennò lo buttiamo fuori Nuovi prodotti Un sacco di cose nuove Mi raccomando ragazzi Supportate questa serie Con un bel like Una bella iscrizione Un commento qua sotto Noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Ciao